L'analisi dei 70 milioni di tweet degli italiani mostra che c'è una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dello strumento, cresce l'utilizzo del retweet, l'utilizzo degli hashtag, quindi questo ci dice che gli italiani hanno compreso bene come entrare nelle conversazioni, come creare conversazioni attraverso l'hashtag. Questo sicuramente è un'opportunità anche per le aziende che attraverso l'utilizzo degli hashtag possono entrare in conversazioni con le persone, possono entrare in nicchie di interesse, di discussione utili per i propri fini sicuramente istituzionali.